Oggi il Mood Chianti festeggia il compleanno di un grande regista, Gianni Amelio. Nei suoi film ha sempre dato voce alla gente comune, trattando tematiche estremamente delicate come ad esempio il terrorismo, l'immigrazione, la diversità di genere. Vogliamo fargli gli auguri ricordando uno dei suoi film più belli e più premiati, l'America, ambientato nell'Albania degli anni 90 con la sua dura storia di povertà e di immigrazione legata anche alla storia italiana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.